Ma non tocca a me dire, ma io non sono per nessun slittamento, c'è un'assemblea sovrana che deciderà e valuterà in ragione la situazione politica, per quel che riguarda me io sono convinto che a quell'assemblea dobbiamo andarci con proposte per la convocazione del congresso e per la conduzione normale, ordinaria del congresso, punto. E non capisco da dove nascano questi problemi, queste favole, io vado all'assemblea dicendo che il congresso va convocato nei tempi giusti con le regole giuste, punto.